Un patrimonio per tutti che non si può far morire. La situazione del lago Trasimeno, il quarto d'Italia per estensione, è davvero al limite. La siccità, l'inverno poco piovoso, le alte temperature hanno fatto sì che il livello dell'acqua scendesse in modo drastico e che i pesci per le acque troppo calde morissero. Difficoltà si stanno generando anche nei collegamenti con le isole e di sicuro tutto ciò non aiuta sotto ogni aspetto, la questione la si consideri. La situazione ha portato la presidente della regione Tesei a chiedere un commissario che possa prendersi cura H24 della questione. Serve, dice Tesei, un commissario che può non solo disporre interventi emergenziali ma anche contare su una dotazione di fondi straordinari che possano garantire un'immediata soluzione e ripristinare una normale situazione di sostenibilità ambientale e sociale. L'amministrazione regionale nel frattempo si è già attivata con il commissario per la siccità dell'acqua per convogliare 10 milioni di metri cubi di acqua provenienti dalla diga di Montedoglio direttamente sul bacino del lago. Un'operazione che deve essere fatta al più presto perché per biodiversità, paesaggio e qualità di servizi il Trasimeno resta uno dei luoghi più belli dell'area di confine tra Umbria e Toscana e uno sicuramente dei più belli del paese.